La Juve è tra le stelle d'Europa. Con il nostro tifo facciamola diventare la regina. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Bayer Leverkusen. Champions League fase a girone seconda giornata. Martedì 1 ottobre ore 21. Puoi rivolgerti allo Juventus Club Lizzano Bianconera. Piazza Matteotti 22 Lizzano. Per info e contatti Antonio 348 80 8 8 803. Cristian 349 68 000 66. Giuseppe 347 04 17 623. E grida con noi Forza Juve fino alla fine.